buongiorno a tutti siamo debraking web e anche stamattina siamo qui con la missione di portare tutte le novità a partire da bard dai oggi c'è bard che la fa grossa c'è un sacco di novità strane chi siamo appunto un collettivo di professionisti dipendenti e partite il che tutte le mattine si trovano per portare le novità del mondo del marketing quindi se ne avete segnalate le se avete posizioni lavorative segnalate perché tanto le condividiamo uguale se siete persone che si stanno candidando non vi rubo altro tempo e vai con la sigla ragazzi ho trovato un'altra soluzione all'inizio delle live perché io mi vergogno c'è poco da fare potresti mostrarti nudo ma non penso che sia peggio ci vergogneremo noi io l'ho sempre detto noi dobbiamo spostarci da questo social all'ifanz sì sì quindi perfettamente ragione il fisico ce l'abbiamo quindi entriamo nel vivo ieri sera mi sono fatto il cenone a mediaset veramente fico bellissimo posto rispetto però all'altro anno ci hanno dato meno mangiare questa cosa mi ha deluso tantissimo però qual è la cosa interessante che debuta questo mediaset ads manager che è l'equivalente di sky advertising quindi loro incrociano i dati dei giallo zapperano mai personal trainer delle loro radio 101 105 focus poi tutti i vari canali che hanno e quindi attraverso questa piattaforma il cui budget puoi partire da tipo da quel che ho capito 3 4 mila euro che però puoi spalmare anche in più mesi quindi in realtà anche con canoni molto bassi in quel caso però ne va vista l'efficacia praticamente te ti vai a selezionare il tuo target e poi apparire il banner quella l con eventualmente anche un link per chi sta usufruendo da un dispositivo che permette di cliccare puoi già localizzare sulla città sull'ip e ti manda sulla landing page in seno ai loro sistemi quindi secondo me la cosa è curiosa è interessante da valutare ovviamente il tracciamento nel senso visualizzazione acquisto la vedo difficile a seguire nel dettaglio però la cosa mi incuriosisce questa è l'estrema sintesi cpm dovrebbero essere molto più bassi rispetto a sky advertising quindi mi sembra interessante un designer ha chiesto a gpt4 come investire 100 dollari è arrivato a 25 mila euro pubblicato su repubblica secondo me è una fake tremenda in repubblica che questa volta non c'è stata molto attenta cioè un meglio se si va a leggere l'articolo si vede che non è proprio così ma è un titolo a chiappa click detto questo io mi sto rovinando le giornate su gpt4 perché secondo me è una fichata due chiacchiere con emmanuele tolomeo tolomei scusa singolare con andrea garopolo me lo sono guardato stamattina emmanuele è sempre molto piacevole ascoltare molto interessante come trovare concorrenti più agguerriti attraverso l'esportazione della search console è bellino sono una serie di script per cui ti va a tirare fuori dati alla console te li mixa e ti fa vedere un po' con chi stai competendo carino e da provare impatto della guerra sono emersi alcuni dati davvero interessanti questo post merita merita una lettura perché in questo momento poi mi ci ricollego anche dopo con un'altra news c'è una crisi generale la guerra ha causato una serie di comportamenti nuovi tra l'altro ne parlavano a chi eri sera a mediaset questa roba qui va un po' studiata bisogna un po' capire in che mondo ci stiamo muovendo poi amazon eccola qua infatti licenzi ancora altri 9 mila dipendenti a casa la strage dei posti lavoro nelle big tech non finisce più altrettanto vale in google tutte queste big tech hanno fatto fuori una valanga di persone è bene riflettere su questo secondo me queste big tech in questo momento non hanno realmente un caldo di fatturato ma le previsioni lo danno per cui loro licenziano in maniera preventiva però insomma se le previsioni del mercato spingono in quella direzione e loro reagiscono così penso sia sano a rifletterci ragazzi voi non so su questo tema cosa ne pensate è un problema c'è stato siamo figli della bolla del 2020 questa è la verità c'è stata la bolla tutti i mercati sono calati tutti i mercati tech ovviamente no? l'online è calato drasticamente dal 2020 al 2023 già dal 2022 e molti stanno correndo ai ripari ma ai ripari di cosa? ai ripari di diciamo errori che hanno commesso nel 2020 per far fronte a una richiesta che esplosa in un secondo perché ragazzi da dall'11 di marzo parlo dell'Italia no? dall'11 di marzo al 12 di marzo è esploso il mondo in Italia e quindi tutti sono diciamo hanno fatto di necessità virtù anche acquisendo delle risorse che poi grazie ciao che poi non servivano e quindi poi sono corsi dei ripari chi l'ha fatto nel 2021 chi nel 2022 è chi continua a farlo purtroppo totalmente d'accordo sì d'accordo pure io cioè la bolla comunque ha falsato totalmente quelle che sono state poi le dinamiche successive perché si è ritornati quasi alla normalità e chiaramente gli aveva investito in certe risorse per far fronte alla bolla si è ritrovato poi a dover fare dei tagli quindi in realtà io quello che non capisco è 9.000 persone 10.000 l'altro sono tante ragazzi aggiungo una cosa spesso nei confronti di business che si fanno si dovrebbe prendere riferimento il 2019 come l'ultimo anno invece molto spesso cosa succede? che dicono eh ma rispetto all'anno scorso ho perso il 40% eh ma il 2021 e il 2022 erano ancora figli della bolla del 2020 quindi il confronto andrebbe fatto col 2019 il problema è che ovviamente per chi ha avuto un'esplosione del business dire perché mi devo guardare il 2019 dove non c'erano non esistevo eh però purtroppo la realtà è questa esatto quindi vado avanti e torno attivo sulle cose una survey da far circolare fra le startup milanesi se avete voglia di partecipare contribuite e poi Samsung è stata accusata di marketing ingannevole avete visto un buscato di Samsung che fa la foto alla luna e viene una foto che nemmeno è un telescopio ecco lo fa con lei sostanzialmente hanno provato a dare a Samsung delle foto modificate con Photoshop eccetera eccetera e sempre esce una luna magnifica quindi a quanto pare ma quindi dici che ti ha fregato? a te che ti ha fregato andate a vedere questo post perché è interessante praticamente non è che ci appoggia sopra un PNG della luna per cui non è una vera foto ma molto probabilmente riconosce che è la luna e con lei va a ricostruire pezzi mancanti quindi c'è un po' di è un po' sottile come faccenda quanto sono riuscito a guadagnare con un video da 5 milioni di visualizzazioni su TikTok molto carino questo creator appunto è scritto al programma di pagamento di TikTok lui ha fatto questo video che è andato virale era non mi ricordo il tema ah tipo i profumi di marca la versione che trovi da Lidl l'ho visto anch'io mi è cambiato esatto e diverse 100 condivisioni una cosa del genere di queste visualizzazioni un milione e nove vengono considerate di qualità non ho capito qual è questo criterio queste vengono pagate con un CPM di 0,90 ha tradotto ci ha fatto 1700 euro il che insomma è curioso 5 milioni di visualizzazioni non sono poche però ragazzi non è una cosa che rifai tutti i giorni però bellino noi lo facciamo ogni live certo 8 nuovi aggiornamenti di Facebook Ads più l'elenco degli UTM da usare su GA4 come sapete GA4 non si legge più i vecchi UTM per cui stampatevi questo elenco stampatelo proprio in cartaceo appendetelo e fatevi tutti gli UTM per il futuro o vi va tutto in Anna Signed che cosa succede poi nel frattempo questo mi sa che era una news che avevo portato settimana l'abbiamo detta mille volte ma siccome entri su Analytics e trovi tutto su Anna Signed arriveremo a 2000 tu lo sai che io non me la ricordavo quindi grazie Fabio allora arriva la possibilità di pubblicazione dell'inserzione di Instagram Story terminare testa B in anticipo nuovi modelli di annunci Reels inserzioni per le conversioni da app su Instagram Reels destinazioni di origine riproducibili ce ne sono veramente tante vanno dette ragazzi non posso riassumerle tutte non bisogna nemmeno leggere le offerte di lavoro né i prossimi eventi ce ne sono tanti li trovate in tutti i nostri canali l'ultima cosa Microsoft lancia il Bing Image Creator quindi l'omologo di Google per creare le immagini e sembra molto carino anche questo per cui da provare ho finito allora io mi allaccio a quanto dice Fabio solo per dire che Bing secondo me si sta muovendo molto bene negli ultimi periodi mangia da un annetto sta facendo cose veramente interessanti quindi potremmo potremmo prenderlo come come punto di riferimento secondo me per il futuro vedremo come si muove allora un bel tool che tramite uno script genera da YouTube quindi da un video direttamente in riassunto la struttura per un articolo è un tweet quindi tramite l'intelligenza artificiale si dà in pasto questo video di YouTube e lui genera tutte le diciamo le informazioni che servono per i vari social interessante andatelo a guardare è veramente fatto bene dopodiché evento live di Raffaele Visintin che ci ha scritto poco fa porterà Hreflang e Canonical il 14 aprile se non sbaglio a un evento che farà live interessante e gratuito quindi iscrivetevi se non conoscete bene Screaming Frog la rimozione retroattiva degli audio è in realtà una pratica illegale che sta facendo Meta Antonino Polimeni ha fatto diciamo una chiamata alle armi chiunque è stato danneggiato da questa cosa può contattarlo perché non è una pratica corretta va contro le policy di 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 scusatemi di Meta stesso quindi questa cosa è importante e poi ultima notizia il 3 luglio 2023 cambierà di nuovo il mondo abbiamo fatto una bella live noi sempre con Antonino su Omnibus è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale e dal 3 luglio tutti gli e-commerce tutte anzi non solo i-commerce tutte le persone che vendono online in qualche modo servizi tutto dovranno adeguarsi all'Omnibus quindi correte i ripari avete tempo fino al 3 luglio dopodiché potreste essere sanzionati se non siete a norma faccio una parentesi veloce queste due news sono fondamentali stampatele cioè se siete un creator e avete perso visibilità eccetera avete legalmente diritto ad essere risarciti è una cosa enorme quindi contrattate Antonino e la questione dell'Omnibus non sottovalutatela cioè saltano le sanzioni poi cambia tutto sì io dalla mia malattia ho finito bene tocca a me buongiorno a tutti mi gallaccio sia al commento di Francesco su Bing che a quello che ha detto Demetrio all'inizio perché in effetti Bing sta tirando fuori delle opportunità incredibili infatti Google in maniera affannosa cerca insomma di stargli dietro con bar di altre cose però diciamo c'è un gap c'è una differenza dal modo anche di comunicare e di esporre queste opportunità mettiamola così infatti nelle SERP di Bing iniziano ad apparire i primi snippet in primo piano con le ancore legate alle risposte ipotetiche di Bing AI quindi l'intelligenza artificiale nello snippet alla fine dello snippet come magari diciamo le ancore che noi troviamo in Google che si vanno poi a collegare alle parti di testo della pagina troviamo appunto gli snippet di Bing AI con le domande ipotetiche o le risposte ipotetiche a quel determinato risultato di ricerca c'è un post insomma che lo fa vedere nelle SERP UK che è molto interessante appunto perché è una novità mettiamola così diciamo si mischia un pochino la questione AI con i risultati di ricerca Fabio che caccio c'è da vedere facciamo una settimana vivendo senza usare Google ma solo Bing a fine settimana vediamo come è andata vai ci sto però poi dopo devo chiamare tutti i clienti e dire raga è finito non si lavora più però guarda che interessante sta cosa non lo so secondo me con Bardo qualcosa di simile ci sarà però Fabio anche il lato Google Ads tutto su Bing disattivate tutto su Google ormai abbiamo detto una settimana solo su Microsoft per l'uso privato cioè l'aspetto professionale va mantenuto ma per chi in privato usiamo soltanto Bing eh per chi in privato vedi adesso sta cominciando a tirare i remi poi scaliamo a tre giorni poi due un'ora e vabbè va vado avanti sempre collegandoci alla battaglia Google Microsoft per la i a Google ha finalmente aperto la white list per diciamo usare Bard solo i UK e gli Stati Uniti per adesso ma l'annuncio insomma riguarderà anche altre località fra le quali anche l'Italia però nei prossimi giorni e le prossime settimane infatti se provate ad accedere al sito per la white list vi dirà che nel vostro paese non è ancora attiva però insomma aspettiamo appena possibile lo useremo secondo seconda news che si collega a questa qualcuno UK ha già iniziato ha già iniziato a testare Bard e appunto ci sono i primi risultati negativi i primi problemi insomma perché dicono che da risposte sbagliate raga è normale c'è un AI che è appena stata lanciata diamogli il tempo di rodare quando chat GPT e Bing AI poi dopo successivamente sono stati lanciati hanno ovviamente risposto una marea di cavolate quindi direi aspettiamo prima di dare giudizi e vediamo come si evolve la cosa comunque anche dall'Italia si sono messi in waitlist con una VPN si con la VPN lo puoi fare e qualcuno addirittura ha dovuto per far vedere appunto che era riuscito a mettersi in waitlist fare la foto al cellulare perché è disabilitata la possibilità di fare screenshot da mobile all'interno di BAB questa è una questa è una bella cosa questa bella chitta che hai cacciato infatti io stavo pensando di usare la VPN di Google non lo so se esatto cane che si morde la coda chissà secondo me ci riesci Google le fa spesso queste cose c'è un commento di Andrea mi interessa tanto quello che dice Andrea però al 30% del traffico sinceramente non mi torna no neanche a me no nemmeno io mi trovo con questa percentuale ma come traffico io ne trovo meno molto meno in Italia soprattutto assolutamente no vabbè va approfondita raga Andrea vogliamo URL adesso adesso diciamo vi butto fuori una bomba sulla quale riflettere che invece riguarda delle riflessioni sugli effetti del core update di marzo 2023 quindi torniamo un pochettino a oscillazioni siti che salgono siti che scendono eccetera c'è una bella riflessione di Enzo Mastrolonardo che più che una riflessione è quasi un podcast sul gruppo di Emanuele Tolomei dove praticamente Enzo ci fa tutta una panoramica dal suo punto di vista su quello che è l'andamento di alcuni siti di affiliazione che lui ovviamente fa molta affiliation dove ha notato cali per quanto riguarda determinati settori rispetto magari a quelli che possono essere le tipologie di siti web che invece magari sono saliti tipo e-commerce che hanno una certa autorevolezza sono diciamo saliti hanno avuto almeno finora perché comunque è finito da poco la release dei buoni riscontri mentre siti nuovi che magari sono stati lanciati da poco e che avevano comunque avuto il botto all'inizio magari anche per via dei contenuti generati con la i senza revisione dopo il core update sono calati vertiginosamente poi vabbè ci sarebbe da discorrere per ore quindi in realtà chiedo anche a voi cosa avete notato personalmente i siti che gestisco diciamo che l'ottanta per cento dei siti non ha subito cali per fortuna anzi qualcuno è anche salito il venti per cento dei siti fra i quali c'è anche qualche sito in affiliazione lato mio è calato quindi questa è più o meno la mia panoramica a voi com'è andata? ma stiamo parlando del core update? sì ah quindi la butto la news che mi ero messo? va bene se si collega a questo sì non lo so no 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 non ho avuto cali sinceramente devo guardarli ancora però no no anzi anzi su alcuni sta migliorando però devo fare un check più approfondito abbiamo però dopo la portiamo la news di Elisa Paesante di Sistrix che appunto ha fatto un elenco di quali sono tutti i siti che hanno diciamo avuto una sorta di penalizzazione chiamiamola così anche se no i miei non ci sono esatto però no non ho avuto scossoni cioè lo scossone è stato grosso attenzione però in positivo me ne sto guardando uno al volo adesso sì anch'io sto guardando devo dire che li ho controllati li ho monitorati nei giorni scorsi non ho avuto grosse cose ok io qualche competitor ho notato che è calato invece qualche competitor dei siti che gestisco quindi vi ho mandato vi ho mandato una foto sul gruppo sì di un sito che ancora dovevo vedere direi abbastanza bene eh so direi proprio sì niente male direi infatti eh settori va bene ne parli ne parli dopo Mike sì 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 ne parlo con Elisa ok sì 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 ok vabbè allora in questo caso mi taccio e andiamo avanti che se no spoilerò Michele altra riflessione ha spoilerato ha spoilerato Enzo perché è stata un commento che abbiamo fatto dietro le quinte esatto l'abbiamo detto l'abbiamo detto prima di entrare in live Enzo sì sì esatto non volevamo spoilerare la news di Michele però Michele ormai parla ne ha ci troviamo sembra allora praticamente Elisa ha fatto Elisa Paesante Sistrix ha fatto questo questo articolo molto bello ogni volta che c'è un core update appunto vanno a vedere com'è la situazione è ancora in fase di roll out dei data center di Google quindi ancora deve andare come dice sempre Google questi core update tendono a migliorare gli algoritmi di base per la valutazione del ranking cosa è successo? andiamo a vedere i siti big chi è che scende effettivamente? ebay.it Garzanti e Reverso hanno avuto un botto allucinante anche Bacheca ha avuto un calo torna a salire a Ranzulla questa cosa ragazzi io non voglio commentare perché sennò mi bannano però torna a salire a Ranzulla e buone notizie per amazon.it trova prezzi.it e subito.it questa è un po' diciamo la la vaga la cosa un po' più ampia Amazon poverino ne aveva bisogno di avere una spinta tutti i siti farma stanno in discesa nel settore farma faccio una parentesi veloce ci sarà un po' di casino in futuro perché per legge non si potrà più usare certi termini e nome dominio infatti secondo me influisce questa cosa perché molti stanno cioè sono obbligati a cambiare comunque non so se questa cosa doveva uscire ma come andiamo avanti eh infatti ragazzi passiamo un'altra bella riflessione via non la possiamo nemmeno tagliare perché siamo live sì tagliamo via riflessione sulla vita ragazzi di il tempo che scorre veloce questa è una cosa che mi ha colpito molto perché io nei giorni scorsi ho visto un video cioè più che un video un film di Edoardo Leo molto interessante che si chiama Era ora che in sostanza ti mostra dove mi ci sono rivisto molto e penso tutti e quattro siamo in una situazione simile e lui in sostanza fino ai 40 anni fa una vita normale dove fa tanti tanti tante tante cose si mangia il tempo come passa il suo primo quarantesimo compleanno tutti gli anni passano praticamente senza che lui se ne accorga e arriva subito quasi a 50 anni che diciamo la sua vita cambia radicalmente peggiore eccetera eccetera e alla fine decide insomma di in qualche modo fermarsi quando si ferma la vita comincia a scorrere di nuovo normalmente ma la cosa interessante che mi ha colpito in un post di Germano un nostro collega è una riflessione del Dalai Lama che appunto dice ci sono due giorni all'anno in cui non si può fare niente uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani perciò oggi è il giorno giusto per amare credere fare e principalmente vivere ora vi chiedo voi cosa ne pensate possiamo vedere qua la live è piaciuta ciao a tutti dai ditemi la vostra su chiacchieriamo così facciamo dimenticare quello che abbiamo detto prima io io ti dico solo che ho appena fatto 40 anni quindi l'ho visto anch'io quel film e è bloccato su una sedia e sono bloccato su una sedia è fermo si è fermato si è fermato la mia vita sta scorrendo veloce ma io no esatto esatto eh Anto che ti dobbiamo dire ne abbiamo parlato penso tante volte in separata sede no? eh purtroppo allora eh cerco di prendere sempre la cosa positiva no? da questi film quello che vuole comunicare eccetera però mi ricorda sempre un po' il la scena di Natale quando passano il messaggio medici senza frontiere eccetera la gente non ha cibo e noi tutti a mangiare e a ingozzare sti cazzi fondamentalmente nel senso lì per lì ti emoziona anche perché effettivamente io pure quando ho finito di vedere il film ho pensato cazzo sono io ma siamo un po' tutti fondamentalmente non io ok però che fai? quello che ha fatto lui quello che ha fatto lui eccessivo perché non puoi prenderti 96 giorni di ferie fermarti cioè nel senso è una cosa un pochino eccessiva sono d'accordo ma coda anch'io no? sono lì se ne parla sempre di sta roba eh io penso un tante volte dici ma devo aspettare che mi venga un infarto per rendermi conto che non sono immortale che devo vivere adesso perché il futuro non è garantito come sapete due anni fa al mio migliore amico è venuto meno no? sì e per lì ho pensato cacchio giovanissimo ho detto no devo rivoluzionare la mia vita non posso perdere tempo eh poi vieni riassorbito dal quotidiano da Whatsapp che scoppia 1700 messaggi in attesa di risposta eccetera e la giornata è passata e domani risiamo di forza sono stato quanto è passato un mese in Kosovo torno dal Kosovo e penso ragazzi i valori della vita sono alti sono veramente alti sto buttando il mio tempo tre giorni dopo come fosse mai successo esatto come con il Covid in altre parole sto facendo un percorso di formazione per affrontare questo tema perché non voglio arrivare troppo tardi a vivere cioè quello che faccio mi piace un botto mi strapiace però non può esserci solo questo comunque c'è una citazione in questo commento di Francesco Emanuele Esatto per chi non l'avesse vista quella live che diceva prima Fabio di Tolomei Cogarofalo appunto dice questa frase il serio che ha colpito un po' tutti nessuno di noi ne ha parlato però tra tutti abbiamo chi ha fatto il post chi ha scritto direttamente Emanuele comunque sì ha ragione Francesco ognuno ha il suo tempo il suo percorso eccetera però dall'altra parte concordo con quello che ha saputo spiegare meglio di me e Fabio ossia lì per lì tutti una volta nella vita abbiamo avuto un trauma una persona cara che appunto che ci viene a mancare lì per lì noi ci sediamo e diciamo no la mia vita vale molto di più di questo la settimana dopo stai peggio di prima perché devi recuperare quella settimana dove hai detto la mia vita è meglio e quindi sei pure diciamo hai tutto in pending quindi raga secondo me è molto bello è una cosa che fa riflettere sicuramente piano piano uno deve fare oh avete coperto uno piano piano deve deve arrivare a fare delle considerazioni corrette vai rimetti rimettiamo chi legge bella riflessione ma il cervello ha meccanismi di protezione sul valorizzare il singolo giorno perché fondamentalmente non riesce a preoccuparsi di una realtà distante dalla sua come dice Fabio viene riassorbito dal quotidiano ma puoi cambiare piano piano piccoli aspetti della tua vita fino a farli diventare significativi concordo con Enzo bravo bravo ok c'erano altri commenti che si ricollegavano ok eccolo sì allora io credo che il film regali a chi legge vai 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 ad ognuno uno spunto di attenzione personale un momento per fermarsi e focalizzare il proprio percorso e in realtà avevi due ore di tempo libero che hai appena sprecato guardando un film dove avresti dovuto fare cose più bravo questa è un'altra cosa ancora questa è un'altra cosa ancora anch'io sto pensando questa cosa il lavoro è bello può passare tutto il giorno da un pc ma arrivare la sera pensando ma cosa ho fatto altro oggi per me tempi morti esatto allora noi ragazzi il lavoro secondo me ha portato cose bellissime noi ci siamo conosciuti grazie ad esso sono reali amicizie che vanno al di là del lavoro quindi non c'è solo una faccia della medaglia ci sono sempre tutte le facce però è anche vero che io ho sei mesi che devo cambiare una batteria perché lavoro sempre in orari d'apertura di un qualsiasi negozio che vende batterie per cui non cambio la batteria arriverà l'estate e la mia moto non si accenderà e quel giorno sarò veramente nervoso sono cavolate però poi succede questo mi associo perché io ho la moto sotto la pioggia da circa quattro mesi ci ho messo il telo sopra la moto non parte più mi è entrata l'acqua all'interno cioè è diventato un caso si è arrugginito quasi tutto il telaio quindi la dovrò buttare perché sempre perché diciamo hanno la priorità altre cose quindi però è vero pure che almeno lato mio mi sto impigrendo dal punto di vista di alcune cose che facevo veramente ormai sono abituato a scusarmi non ho tempo non posso quando arriva quel sabato mattina che per caso c'hai due ore le dormo esatto esatto e la scusa è vabbè ma io tutta la settimana ho lavorato fino a tardi quindi è così l'alimentazione non c'ho mai tempo mangio male va già bene se magno quindi quando magno magno perché c'è io comunque ho finito è molto filosofica diventata questa live torno materialista con la cavolata del giorno no Michele se mi fate dire se mi fate dire no no ti ha tagliato ti ha tagliato ma vabbè ora vado vado veloce vado velocissimo Brockman durante la presentazione di GPT4 ha fatto vedere come uno schizzo su un foglio di carta può diventare una pagina web questo schizzo era molto semplice fare questa pagina era veramente basilare ma qua il punto è vedere la potenzialità che c'è dietro questo strumento qui ragazzi battute Fabio stamparlo esatto lo sapevo io e Fabio rideva si possono fare all'interno di Whatsapp Business direttamente le campagne per meta quindi Facebook e Instagram e il Search Engine Land fa un articolo molto interessante dove appunto parla dei contenuti fatti da GPT4 ovviamente è un test fatto da Mark William Cook dove praticamente che cosa fa crea un sito con più di 10.000 pagine create tutto interamente con contenuti fatti da GPT4 o tre e mezzo e tutti a tema uovo alla cook esattamente esattamente manda online cagliatelo per piacere ma io faccio ormai vado avanti non mi sento manda online manda online questo sito tempo mi sembra tre mesi due mesi tre mesi e il sito muore completamente fa un altro test invece su un sito dove il brand è abbastanza forte quindi è comunque riconosciuto agli occhi di Google dall'altra parte i contenuti generali a GPT4 venivano sottoposti da esperti da copie eccetera eccetera e il sito ha avuto comunque un leggero ribasso ma è riuscito a mantenere la botta quindi questo esperimento a cosa serviva di fatto a far capire che questa intelligenza artificiale o qualsiasi altro tipo di intelligenza artificiale che si basa sulla sul diciamo la parte linguistica non può sostituire un essere umano ho finito questo non era il premio GAC senso che è una cosa che diciamo dal quando abbiamo iniziato a parlare di chat GPT e via diciamo vero è verissimo però tutti ne parlano e nessuno fa i test tutti bravi a parlare lui ha fatto i test ragazzi vi faccio una proposta facciamo tutte le live con questo commento diciamo fisso sotto esatto fisso della live perfetto vai io direi cavolata del giorno è sigla cavolata del giorno allora avete presente il caglio sapete a cosa si fa il caglio no? stomaco l'abomaso quindi è un problema fare un formaggio per vegano perché appunto se bravo perché di cosa mi vuoi parlare mi dica no io ho sempre fatto il formaggio con l'interno del fico bianco o del carciopo che però in realtà non sono in grado di cagliare altrettanto bene quindi da circa 30 anni si usa un caglio che non viene fatto dagli animali artificiale e qui però ha generato un paradosso perché in realtà molto spesso l'etica vegana è molto contraria all'OGM e l'OGM più diffuso del mondo è in realtà il caglio fatto dagli schericchiacoli che viene utilizzato per più di 30 anni quindi è una cosa che esiste da un sacco di tempo che viene utilizzato per cagliare il formaggio con prestazioni praticamente uguali a quelle del caglio tradizionale quindi non caglio vegetale che ha un rendimento diverso mettiamola così e la produzione di formaggi che non ha previsto la morte di nessun animale però l'OGM finito bene complimenti bellissimo grazie prima di chiudere ricordiamo che mercoledì e venerdì ci trovate all'otto e mezzo per le news sul sito ci sono tutti gli sconti per i prossimi eventi di cui siamo partner esattamente quindi 20 aprile già 4 day il 19 e 20 di maggio marketing business summit quindi 16 e 17 giugno web marketing festival a Rimini abbiamo gli sconti per tutti questi eventi peraltro quello del web marketing festival se non sbaglio scade a fine mese quindi se non avete preso indietro affrettatevi bello il commento di Emanuele e con questo sigla ciao a tutti grazie ciao un attimo che trovo la sigla ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!